Black Traction RS Bianco permette di pulire al meglio possibile e poi proteggere i teli in PVC e neoprene delle piscine macchiati dall'assorbimento di sporco e agenti macchianti. Probabilmente questi teli si potrebbero pulire anche con dei detergenti molto aggressivi, però poi il materiale rimarrebbe ancora più esposto all'assorbimento di agenti macchianti, meno elastico e più fragile, con una possibilità aumentata di creparsi e rompersi. RS Bianco invece pulisce al meglio possibile, ma soprattutto successivamente protegge il materiale dall'assorbimento di ulteriori agenti macchianti e dalla formazione di funghi e ne preserva l'elasticità per evitare che si crepi e si rompa. Il prodotto va applicato con la parte abrasiva di una spugnetta per lavare i piatti, ma soprattutto è fondamentale una buona temperatura ambiente, perché col caldo le porosità dei materiali si aprono, permettendo la massima efficacia del prodotto per estrarre lo sporco e una maggiore rapidità ed efficacia ad ottenere il miglior risultato possibile. Dopo aver applicato il prodotto con una spugna, lo lascio lavorare qualche secondo e successivamente sfrego per estrarre lo sporco assorbito e trattenuto dal materiale. A questo punto, con un panno pulito, si toglie la parte di prodotto a cui si è legato lo sporco che era assorbito con un panno. Il risultato ottenuto con questo tipo di applicazioni di RSB è certamente migliore a quello che si può ottenere col forte getto di una lancia termica, che non riesce ad estrarre lo sporco assorbito dalle fibre. Con RS bianco il materiale viene rinnovato, ma soprattutto poi protetto.